Quanto puoi darmi questa volta? Questa volta posso dare Cermin Cermilo Oggi pomeriggio abbiamo altri quattro appuntamenti e poi stasera siamo a cena con il direttore della banca Questa volta vedi di vincere, ma così tanto per cambiare Il perdere è più stimolante perché ti dà la voglia di continuare a giocare fino alla prossima vittoria Il perdere è più stimolante perché ti dà la voglia Siamo noi, la legge, il popolo che è chiamato a decidere se è reato Questo è il rispetto per la vita che ci è stata data e da nessuno ci può essere tolta La mia storia inizia in un tribunale dove ero intrappolata in un lavoro noioso, monotono e mal pagato Volevo guadagnare bene ed avere il controllo della mia vita Beh, se le cose sono andate veramente così lo dirà il magistrato Per ora lei in arresto e l'accusa di omicidio volontario E questo sono io, il veneziano, così mi chiamano parenti, amici, insomma tutti quanti Paolo Mazzantini, sono nato a Venezia ma sono di origine toscana Mio padre è il maestro di un paio E se il signor Nannelli non si costituirà a parte civile Io sono sicuro che il magistrato le concederà tutte le attenuanti del caso Ma qualche giorno devo partire, mi raccomando Stagli vicino, eh? Tranquillo Ma è vero, non è tanto tempo fa era un campione di motociclismo? Certo, certo, tanto tempo fa, ora ormai che vuoi? Dai, raccontaci Eh, è una lunga storia che inizia dalle corse Primo classificato Milano Taranto Che bellezza E poi Eccola qua Eccola qua Ringrazio a voi tutti per essere benvenuti, sono veramente felice di qui Buona festa di primavera a tutti Evviva e buona primavera a tutti